Non hanno ancora scelto in quale squadra giocare, quindi sta al vostro tipo convincervi a venire. Quindi non è che se un mister è indeciso e viene di qua a sentire il tipo, non è che dovete urlare voi. Quindi devono urlare loro, urlo degli attaccanti, poi il mister si sposta, urlo dei difensori e poi sceglie. Ok? Ci siamo? Quindi, può entrare il primo gruppo dei mister quando parte la musica? Che ci fai? Musica maestro! Musica maestro! Musica maestro! Grazie. 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 Allora non andiamo più d'accordo, mi dobbiamo essere seduti e sto parlando, quindi come stiamo quando parlo? Sennò il gioco non riesce. Io mi siedo e stiamo qua tre ore, quando c'è silenzio il gioco procede. Bene. Allora, mentre riposiamo le corde locali che ci serviranno per la prossima sfida, sto parlando, sto ancora parlando. Prima sfida, avete insieme ai vostri mister... Dobbiamo fare i cordi. Bravo Nicolò. Un paio di minuti per preparare dei cordi per la vostra categoria. Quindi attaccanti, cordi per gli attaccanti e difensori, cordi per i difensori. Grazie. 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 Grazie.